Iscriviti al canale! Se sbustassi l'unico anello in un draftino lo giocheresti? Allora nel caso in cui... A parte che nei draft non lo puoi trovare perché ne ricolletto i booster Ma io mi immagino la situazione in cui sbusto, trovo l'unico anello Faccio... Richiudo la busta, mi alzo, me ne vado E vado a mettere in un luogo sicuro l'unico anello Non dico niente, mi alzo e me ne vado Con le mani unite, esattamente Tipo Gollum Io voglio fare il livello Infatti se poco poco lo metti in venta ti ritrovi la banda Bassotti sotto casa Ma infatti devi trovare un... Una tecnica, un modo... Che bello giocare con i batti ragazzi, ma che bello è Mamma mia che bellezza Devi essere forte Anche di fronte alla sconfitta Ma stavo pensando che potrò prendere la 2-2 perché prossimo turno io farò HP Rinvengo un amico A costo 4 Ma così alla vista mi sembra broken Hai capito, Ettwins, esatto Io nel dubbio una Collector L'Apio Monobusta tipo biglietto della lotteria Voglio essere il bambino nella fabbrica di cioccolato con il nonno triffatore Che prende la pensione di invalidità quando riesce a fare le capriole Eh Che merda Ah ok, c'è il cap del livello Quindi è normale che qua mi arrivano quelli da verano a 2 Interessante Il piccolo KT O l'ovo Che fai zare qua? Anche l'ovo è valio, eh Buona fortuna là fuori Il piccolo KT Non è più grosso Potrei fare lui Vendo HP La triple l'ho vista Questo fa discretamente schifo Ne prendo un'altra Tu aprirei qualche Collector per tentare la fortuna? Non lo so Eh, anche a me parebbe Ocransta Non so se fai zare onestamente qua No, non voglio fai zare Ciao Budi, volevo chiederti una cosa da molto tempo Chiedimela È un tuo diritto Quanti gold hai? Bu? Non tanti perché in realtà Giocando a BG non si prendono più gold Riduce di 2 il costo del tuo prossimo amico Ok Io farei livello Vendo E faccio HP Perfetto Ora puoi reclutare alleati più potenti Chi vendo? Forse è lui Eh, lo scagnozzo da value Oppure la dama per dare più 3 attacco e essere più forte Poi li faccio dorati Che capisci quanto è broken Poi ora magari è pad Il contatore a sinistra indica Io posso pagare questo mana Per prendere il Buddy Adesso non ti arriva dopo un po' Come erano per i vecchi Buddy Spero che mi dia le 4-2 Non la 2-2 Quella battaglia è andata alla grande Oh mio Dio Perfetto Ora puoi reclutare alleati più potenti Cioè capite che Situazione Cioè capite che Grande sattalo Vedrai che colpo Sono di vedetta Vedrai che colpo No? Buona fortuna là fuori Io credo in... So se sta cosa vuoi Vediamo Qualcosa di spicy si fa Vediamo Perché a un certo punto Dove ho A un certo punto Devo fare anche Della board Credo So se è necessario Questa Mio Dio Questa farà schifo potrei fare un altro di questi golden però volevo fare prima l'hp probabilmente avendo i i cosi di 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 piccolo che t è l'ultimo avvertimento solo di vedetta è l'ultimo avvertimento cominciare a giocare Grazie mille E' 30 HP adesso hanno cambiato Ci sono tutti con 30 HP Non da 40 ma con più armor Che schifo Ci sono anche cose di Taviana 6? Non lo so Voglio scoprirla Non sa che schifo però Di Taviana Non c'è nessun trucco E' magia Riduciamo il costo Che si sa mai C'è una seconda tissa Ok Deve essere quella la via Un dono per a Zara Andiamo di là Un dono per a Zara Ok Vedi cosa succede Quando ti vesti Per l'occasione E' un to' di morte Infrigia 7 danni E i due si è avvito I nemici più vicini Tenendo il buddy L'avrei triplato Si quello è vero Però Secondo me ho necessità Di Come si fa a fare Una posizione diversa Dato uno Con queste Non lo so Neanche se io Riuscirò a fare uno Perché a un certo punto Devo scalare Comunque Poi si Genera una quantità Rivali Che non sta Né in cielo Né in terra Questo Indubbio Vabbè fa schifo Qua devo Andare di nage Ovviamente vendo lui E vendo Lui Aspetta che venderò tutto Probabilmente Perché devo comprare Anche il mio millone Devi vendere le 6 app In realtà Ho venduto le 6 app Ho trovato 6 app Dovevo mettere questo Che non l'ho messo Il mare E' uno sardo Che posso prendermene cura io Ecco una moneta d'oro Cero marino Un custode Sempre Un custode Sempre Un custode Un Sonico Un Sonico Un Un Sonico Acca boia Che boidello Ok Per me Vedete che lui E' più grosso di me Questo Magmaloc E' stato Stupido Non sono convinto Di averlo fatto bene Ecco delle nuove reclute Daranno la tua squadra Un tocco di magia in più Vede gente Che schifo Ti farò un buon prezzo Ti meriti di meglio Ecco Prendi una moneta Non è facile E' questa situazione Hai visto quanto le ho tavaggi No Non ho visto quanto le ho tavaggi Siete cibo per scuoli Siete cibo per scuoli Siete cibo per scuoli Grazie a me Starei così Vediamo Vediamo Buono Buono Rettissimo questo Però dovrei vincere Vinco di poco Ma vinco Sai che Mi sta tornando un po' di voglia di giocare Quella ventata del facecam Fa sempre bene Assolutamente Stai fare golden Questo Lui Polpo Speriamo a 6 Certo che posso Prendermene cura io Ecco Una moneta d'oro Hai anche pensato Di fare il bad di 2 Atoma Costa un sacco Il magmaloc Il magmaloc Non è un'oscurità Grazie a me Farò ciò che posso Cento conchiglie Cingono le chiglie Ma è un'oscurità Ma è un'oscurità Ma è un'oscurità E' un'oscurità Comunque lagga il gioco Mamma quanto lagga Mamma mia se lagga Luido e Atos Secondo me mi serve Non è un'oscurità Ho rischiato di perdere Ho rischiato di perdere Top 3 Ma io per quella Che aveva le naga Più forti delle mie Ah lui è forte Meglio togliare lui O lui Tengo che fare HP Faccio Golden Loro 2 Sono di vedetta Sono di vedetta Un dono e la Sara Una corona Segna di me Però lo è basta Giusto? In realtà uno lo devo prendere Dovevo ottenere la Il pezzo Non sbaglio Io che ho sei pezzi Che sarà mai Che c'è Oh Ecco Dovevo baffare di più Il mio ammillone Comunque Boh Basterà Non lo so se basta Devo dirvi la verità Vedi cosa succede Quando ti vesti Per l'occasione Si mi attacca qui Poi Che dobbiamo fare Vabbè terzi Però Allora Questo eroe È sbagliato Cioè Fa troppo value Dovevo baffare di più Dovevo baffare di più Dovevo baffare di più